Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CiccioGamer89, siamo tornati su Clash Royale Ma siamo tornati su Clash Royale grazie a chi? Perché questo qua va detto Siamo tornati su Clash Royale grazie alla Realme e in questo caso il Realme 8 Pro Ragazzi oggi andiamo a giocare con questo nuovo cellulare e raga è di una bellezza infinita Quindi ragazzi subito un bel pollicione in su, vi porto in questa che è questa schermata qua Che per assurdo io vi potrei anche fare il gameplay così per quanto è bello Ma non lo farò, questo qua è il cellulare non so se voi state vedendo E durante il video andremo a parlare per l'appunto di questo cellulare incredibile Che poi qui mi sono salvato qualche appunto da farvi vedere Ad esempio la fotocamera è infinitamente avanzata e sicuramente lo state vedendo Ha un sensore da 108 megapixel avanzato Samsung ISOCELL HM2 Ma andremo a vedere più avanti Andremo a vedere più avanti tutte queste nuove funzioni Quindi ancora una volta un bel pollicione in su Trovate in descrizione tutte le offerte su Amazon Tutto quello che vi pare per quanto riguarda la mia con il mio referral link di Amazon Signor vi faccio vedere una cosa È molto semplice, se io volessi registrare lo schermo del mio cellulare Me ne vado qua, faccio registrazione schermo E vado qua Perché vi dico che in questo momento sto registrando? Perché effettivamente è vero Dovrei abbassare un pochino l'audio di questa cosa qua Un attimo l'ultima partita per quanto riguarda la sfida della furia Quindi andiamocene a giocare Io sono tutto quanto il rec Vi ripeto che se volete vi posso far vedere anche tranquillamente che sto giocando in questo momento Tra l'altro è fighissimo anche così, vi devo dire la verità Poi non so quello che avete visto in questo momento Ok, non è facile questa Non è assolutamente facile questa sfida Vi voglio dire la sincerissima verità Non è proprio facile Io ho fatto più quello che... Cioè mi aspettavo di meno invece che ho fatto molto molto di più Non male Ottima come difesa Per il momento ci piace tutto Pipistrellini e il gigante che se ne vanno là Tanti danni per noi Sicuramente posso andare a fare così Li vado a buttare il miner decisamente là Che mi va a togliere un paio di problemi Non so quanto ho fatto bene Benissimo che mi sei andato in torre Ti voglio bene Grazie piccolo mio Vado sicuramente a fare così Ok, quindi di nuovo qua Perché se no mi fanno un sacco di danni Allora o me la gioco tanto con il miner In questa modalità Tantissimo Vai, vai, così Cavolo Un'altra bottarella Se gliela buttavamo Non era male E niente Lui continua Ripetutamente a tirarmi fuori La... Quella lì Ci può stare Per carità, eh Fatta apposta, regà, eh Non credeteci Non credeteci Ma a me quella... Quella lì deve andarsene via Vado sicuramente a buttarmi questo Vado a far fuori Uno contro uno Al Baron Diciamo che C'ho il moschettiere Che mi potrebbe dare una mano Ottimo questa Cosa che è appena successa Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Non gli ho fatto danno purtroppo Ributto questo Allora diciamo che le temati Cioè Il fatto che stiamo girando così In questo momento Ci può stare Tiro una scarica Che sicuramente Ci aiuta Ottimo Vado a tirare il minatore Sicuramente là Ottimo 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 Tantissimi danni Tantissimi danni dall'altra parte Tantissimi danni Tantissimi danni Allora o mi faccio far fuori Ok Mamma mia i danni Regà Oh Wow E vittoria Per noi Vittoria Per noi Ci sta un botto Ci sta tantissimo Comunque tornando Nuovamente a noi Eccoci qua Allora calcolate Vi sto dando anche Dei feedback Perché comunque Diciamo è la prima volta Che ci gioco Con questo cellulare Con il Realme 8 Pro E vi devo dire Che è super sottile Veramente Molto molto sottile E molto Molto bello Queste 4 fotocamere Mi Mi danno Molta fiducia Vi devo dire la verità Tra l'altro Fatemi chiudere la registrazione Perché se no Anzi no Vi faccio vedere direttamente qua E volevo andare A vedere Con voi La fotocamera Che sta Qui Oh no Taglio 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 Vi avevo fatto vedere Delle cose Che non potevo Assolutamente Farvi vedere Ma raga Si vede Da dio Si vede benissimo Sicuramente Guarda qua Ok Fatemela girare un attimo Eh che fai Te ne privi Non me ne privo Quindi la fotocamera L'abbiamo anche vista A me piace tutto Vi dico altre cose Ha il sensor zoom Più definito Di una lente Di un teleobiettivo La nuova StaryMod Il primo video Timelapse Stellato al mondo Su smartphone Ha la fotografia Tilt Shift Ha dei nuovi filtri La batteria Allora Parliamoci chiaro La batteria Io mi sto trovando Benissimo Anche perchè Come avevo detto È la prima volta Che ci gioco Con questo cellulare qua L'ho provato Un po' E vi devo dire Che comunque La batteria dura davvero tanto Anche perchè Ce l'ha da 4500 mAh Ma Io la chiamo ma Li chiamo E c'ha il super change Da 50 watt Non male E tra l'altro Tutta questa roba qua Tutte Tutte queste cose qua Le trovate anche in sconto Le trovate anche in sconto Su Amazon Quindi da non perdere Da non perdere Ragazzi eh Sempre col mio refera link Ovviamente Che vero sto dire a fare Quindi andiamocene sempre a partire Io non ho capito Se questo contro Ha ben capito A che gioco stiamo giocando Probabilmente no Vado ad attaccarlo Mi tira quello Tiro questo qua In protezione Vado sicuramente A fare così Ma Lui mi va Eh vabbè Va bene Mi sta anche bene Ve lo posso dire Che mi sta bene Oppure no Qui io sono costretto Comunque a prendere Dei danni Ragazzi Non è che posso fare altro Quello Quello mena come un fabbro Quello mena come un fabbro Ragazzi Mena veramente come un fabbro Mi ci sto davvero trovando bene Col cellulare Che sicuramente lo state vedendo Ci sto giocando In questo momento Tiro Minatore Dietro Quello ha preso Delle pizze Incredibili Posso veramente Approfittarmene tanto Diciamo che Lui è stato Bravissimo Per fortuna Quello mi rimarrà In vita Un pochino Non so Quanto ho fatto bene A tirare quello lì Oddio Sapete che Sinceramente Poteva andarmi Peggio Ma sicuramente Anche meglio Mi sa che Devo far partire Questi due In difesa Eh già L'ho dovuto fare Per forza Raga Vabbè Ma che giocatore sono Dai Ragazzi Ma qui Veramente Poi comunque Non è pesante Questo cellulare Si porta Molto 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 Bene Quindi Per il momento Il primo feedback È davvero Molto Molto Interessante Molto Molto Interessante Qui Più che altro Penso Che sia Andata Anche Bene In realtà È andata Benissimo In realtà Sta andando Benissimo In realtà Regà Guardate che Stiamo facendo Una grande Partita Ecco Diciamo che La scintilla Può essere Sicuramente Un grande Problema La scintilla Può essere Un grande 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 Problema Ora Mi direte Mi direte Come farò Adesso A superare Questo momento Di crisi Incredibili Ve lo dico io Probabilmente Grazie al Moschettiere La 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 Vedo Comunque Grigia Regà Penso che Comunque Nel bene o nel male Lui la torre Ce l'ha fatta Perché quel gigante Lì dietro ci farà Dei danni Incredibili Meno male Che ho tirato I pipistrellini E secondo me Grazie a quello Andiamo a Recuperare parecchio Vi dico la verità Cioè L'attacco È prepotente Ok E' diventata Tutto Tutto insieme Una bellissima Partita Molto cattiva Vi devo dire La verità Vi devo dire La verità Come faccio Qui Perché i danni Ne sto a prendere Un botto Regà Vediamo Un po' Perché lui Veramente Mi sta Entrando Con una Cattiveria Oddio Oddio Sì E ma non ci credo Ed è stato fatto Signori Ed è stato fatto Così Credibile Incredibile Partita Incredibile Ragazzi Partita Incredibile Quindi signori E io non pensavo Vedete Stati pure Abbastanza fortuna Andiamocene Ad aprire I nostri Premi Regà Il cellulare Mi piace Tanto Regà Il cellulare Mi piace Tantissimo Tantissimo E poi calcolate Che non ho avuto Problemi con la Registrazione Con niente Quindi vado qui Sopra la Registrazione Stoppo la Registrazione E vado a collegare Il cellulare Lo vado a collegare Direttamente Al pc E c'ho tutto quello Che abbiamo registrato Fino adesso Sul pc Dovrò fare un po' di montaggi In questi video Ma spero che vi piacciono Grazie mille Realme Cellulare Veramente Bellissimo Veramente Un cellulare Fantastico Già tra l'altro Ho messo pure L'impronta digitale Già ho fatto tutto quanto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Pollicione in su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscriviti Al prossimo appuntamento Avviso il 589 Alcune specifiche Ve le ho dette Ce ne stanno tantissime altre Da vedere E Boh So proprio Tanto curioso Di usarlo Ma veramente Per bene Poi ci devo mettere La pellicola protettiva Su Amazon Ci sono delle offerte Incredibili Sia per il 6 Pro E sia per l'8 Pro Mi raccomando Ciao raga